Il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Basilicata Giuliano commenta i dati del dossier in difesa alla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2022 curato dalla federazione internazionale Terre des Hommes in occasione della giornata mondiale delle bambine. I dati dei reati commessi a danno di bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni sono drammaticamente sconfortanti, superano i 6.000 e vanno dai maltrattamenti all'abuso dei mezzi di correzione, dalla pedopornografia alla violenza sessuale. I reati, sottolinea il garante, sono aumentati in ambito domestico e questo è preoccupante per le conseguenze dello sviluppo psicofisico delle vittime che un giorno saranno adulti fragili, alcuni dei quali a rischio di diventare a propria volta carnefici, reiterando le violenze che hanno subito. Per quanto riguarda la Basilicata, precisa Giuliano, i reati ammontano a 47 con un aumento del 10% rispetto al 2020. Di questi 23 maltrattamenti, più 28% dal 2020 e due violenze sessuali, meno 70% dal 2020. Queste ultime al 100% su bambine e ragazze.